Carissimi, oggi voglio fare con voi una riflessione riguardo a come i nostri ragazzi utilizzano i selfie o per meglio dire, che cosa rappresentano i selfie per i nostri ragazzi. La riflessione mi viene da un post che ho visto ieri su una pagina Facebook Caffè24 in cui si vede un incidente ferroviario da quello che appare, in cui ci sono dei soccorritori, una donna distesa sui binari e c'è un po' più in lontananza un ragazzo che sta facendo un selfie che riprende evidentemente la signora che appunto è stesa per terra con i soccorritori attorno. Ovviamente tutti indignati i commenti. È un episodio che è sintomatico ma rappresenta ormai un trend, ossia quello di farsi i selfie con l'avvenimento, con l'accaduto, ciò che sta accadendo attorno a noi. Per capire come mai accade tutto questo dobbiamo innanzitutto ragionare sul come i nostri ragazzi utilizzano il mezzo digitale ma soprattutto che cosa rappresenta per loro il mezzo digitale, in particolar modo i social network. Primo tra tutti, visto che parliamo di una particolare fascia di età, Snapchat e in Italia ancora di più Instagram e affini. Cosa significa per loro scattare una foto e poi condividerla? Spesso noi commettiamo l'errore di ragionare secondo i nostri schemi, i nostri schemi che sono pre-web, come dico sempre io. Ossia, una volta per noi scattare una fotografia a un paesaggio oppure anche a noi stessi o agli amici o a parenti, ad una festa ad esempio, era comunque sicuramente un modo per fermare l'attimo e conservare un ricordo. Però mancava tutto l'aspetto della condivisione, o meglio, quello che ci interessava non era tanto poi condividere queste foto con i nostri amici o parenti oppure gli ospiti, quello era un di più, nel senso che se ci capitavano in casa ospiti allora magari se ne approfittava e si faceva vedere il nostro album fotografico, fotografico, ma non era così necessario e tanto meno scontato. Quindi la foto di per sé serviva a noi stessi proprio appunto per fermare il ricordo ed eventualmente rivederselo, ma nel privato. Con tutto l'avvento i social media e i nostri ragazzi ovviamente ci sguazzano dentro perché ci sono nati, tutto questo ha assunto un altro significato, ossia quello della condivisione, ossia per i nostri ragazzi non è tanto il fatto di scattare la foto in sé, ma il fatto di ricondividerla con ad esempio i loro amici, i loro compagni di scuola, il fidanzatino, la fidanzatina e così via. Quindi per loro, a differenza di noi, scattare una foto significa condividere in automatico un pensiero, un sentimento, un'emozione, un fatto di vita, un qualcosa ad esempio di cui loro sono stati testimoni, quindi condividerli con i loro amici e condivisione, condividere un momento, un attimo. Oltre anche ad avere il significato di esserci, io c'ero, perché i nostri ragazzi vogliono essere nel mondo. E qui mi viene in mente ad esempio la pratica dei writers che, tra virgolette, imbrattano i muri per riappropriarsi degli spazi urbani, che è un elemento, poi un concetto ripreso in seguito dal parkour. Quindi questa acrobazia che i ragazzi, ma non solo, anche gli adulti fanno da un balcone all'altro, da un palazzo all'altro e così via, ha come significato quello di riappropriarsi appunto degli spazi urbani. Il ragazzo che si fa il selfie, comunque che scatta la foto, in automatico come se si stesse riappropriando del suo contorno, del suo sociale e del mondo attorno al quale vive. Non a caso, come dicevo prima, la feature più usata, quella preferita dai nostri ragazzi, sono appunto le storie. E già il nome la dice lunga, non l'hanno mica scelto a caso. In questa condivisione dei propri momenti di vita non c'è nulla di scabroso, nulla di scandaloso, nulla di provocatorio. È semplicemente una condivisione. Un altro esempio è come i nostri ragazzi utilizzano ad esempio Instagram. Io ormai nella mia pratica vedo che sempre più spesso, quando un ragazzino vuole farmi vedere delle sue foto, non apre più la galleria fotografica, ma fa prima ad aprire il proprio account di Instagram. Quindi ecco che Instagram, per molti dei nostri ragazzi, è diventato l'album fotografico, anche se poi questo account magari è pubblico. Ma questo è un altro discorso, come appunto stiamo dicendo. Adesso voglio sentire la tua opinione. Tu che cosa ne pensi? Come vedi i nostri ragazzi utilizzare la macchina fotografica del cellulare, Instagram e le loro storie? Scrivelo qui nei commenti e ne parliamo insieme. Ciao!